A.B.C. la tua roba Contattatemi, mandatemi le foto E se c'è qualcosa interessante Se ne può parlare Detto questo, vai Allora, eccoci qua finalmente dopo tempo Nel canale Migliore d'Italia Se volete diventare Veryover Questo è il mazzo incredibile che fa per voi Ma perché è il mazzo per Veryover? Perché la base costa Sieno 10€ Il problema sono tutte le staples Che costano troppo Partiamo con la profile Allora, iniziamo con le lettere Che sono standard, diciamo Perché sono 2A, 3B e 2C C'è chi gioca a 2B Ma dopo vedi poche lettere Ti serve un livello 4 per fare sincro E' buono anche per la chain lock Che vedremo dopo Un solo union driver Stavo pensando di giocarlo a 2 Praticamente un giocatore su 10 di ABC lo gioca A.B.C. la tua ho Esatto, A.B.C. la tua ho E quindi, non lo so Io... C'è una combo che in caso vedremo dopo Per sbriccarsi la mano Se lo peschi Perché in realtà Non lo vuoi mai vedere in mano Però questo la vedremo dopo Poi vabbè Chiaramente La carta più forte Che ti fa fare A.B.C. E' Angar Da sola Solo questa Fai A.B.C. e basta E' un po' scarsa Cioè, è una partenza forte Ma vai sotto Nibiru Quindi non è il massimo Poi 2 Therion 2 discolossei Terraforming E un set rotation Se può giocare anche così O addirittura così Ho visto giocarle anche 2 Therion E un solo discolosseo Ma la terreno la vuoi vedere Con Ancient Fairy Per cercare Angar Vabbè Set rotation troppo forte Soprattutto se vedi il reparto Brave Perché sì C'è il reparto Brave Mi balzi in mano la terreno Che hai settato Ma questo lo vedremo dopo Nella combo Poi vabbè 3 Revolution Synchron E un Tuning Ho visto giocare anche 2 e 2 Ma non voglio andare sotto Droll Quindi preferisco vederlo subito in mano Ho visto giocare anche 3 e 2 Ma l'ho giocato Non scorso Local Quello prima ancora 3 e 2 E ho visto letteralmente 3 di questi in mano E un Ti sintonizzare E ho perso Chiaramente Quindi direi che questo è Il migliore Se vogliamo Per me il miglior Rateo Poi per ridere Passiamo o no? Questo dopo Questo dopo Poi reparto Brave 3 Enchantress Un grifone Tutto storto 2 riti Solo 2 Si può chiaramente giocare anche 2 Enchantress E 3 riti Però invece c'è il body in più Che puoi scartare Di costo Tipo per Revolution Synchron E poi lo puoi Lo bagni da cimitero Mi piaceva di più Anche se purtroppo Finisci sotto Droll Quando lo attivi Sempre E poi vabbè Reparto Delle 2 standard De brave Questo Per chi se lo chiedesse È il token Che ho sempre portato Troppo bello Poi Carte Diciamo Entrap Interruzioni 2 ferrier Perché non ho posto Perché gioco a 40 Se no io giocherei 3 3 Ashe 3 Imperma Che non cambierei Ho provato a giocare anche Come si chiama Rust Ma Non l'ho vista così buona Mentre Se sai Contro chi vai Tirarla al punto giusto Vinci Quindi Cioè O comunque Gli fai parecchio male Mi casava così E vabbè 3 prosperity Perché finché non la limitano Adesso che la ristampano Ne gioco 3 Quindi 40 carte di main Extra Tante cose da dire Perché l'extra da bc Si può fare in mille modi Questi sono gli unici due Diciamo Standard nella lista Io ne gioco 3 Perché in grind Mi è servito il terzo Non vuoi arrivare il grind Ma se ci arrivi il terzo È fuori di testa Poi Syncro Ancient Fairy Per Vabbè Per la terreno E dopo con Revolution Synchron Ci fai sopra Alla cristallo E vai Ed è la quinta summon Quindi sei Anti Nibiru Un rosa nera Per celloccarlo Con una lettera Revolution Synchron Troppo forte Poi Se Ti fanno Parecchie interruzioni O comunque Non vedi le lettere Puoi aprire Così Un'apertura Non forte Con Naturia Bestia E Barone Usando chiaramente Revolution Synchron E Reparto Brave Fortissima come Cioè È un po' Poco Ma Poi odì Fa il suo Esiste la combo Per fare Varchion Che non ho portato Perché sinceramente È super complicata E bruci parecchi posti Di extra Perché devi giocare Il Link 2 Dinosauro Quello che te cambia I attributi E Varchion E c'hai due spot Che per me Non ha senso Cioè dovresti togliere Barone E Naturia E quindi no Quindi se c'è un mazzo trappole Vai a game 2 E se tappi roba Che dà fastidio Link Lui Che non vorrei giocarlo Ma va giocato Per forza Per giocare ABC Perché se vedi solo La terreno Lui ti fa fare ABC E quindi Ci vuole Mascherena Unicorno Questo qua L'ho portato Perché non era ancora uscito Little Night Ed era l'unico Che mandavo via Di Prosperity Ma adesso che c'è Little Night Mi deve arrivare Quindi questo sarebbe Un Little Night E L'ho provato Adesso Troppo forte Va giocato Vabbè La conoscete tutti Come carta Poi Gli ultimi link generici Perché tanto sono tutti Link generici Ti è Ok la profile Sarebbe in realtà così Questo è l'extra Se uno vuole Può mettere un altro Link 2 Che può essere Lina O Fenice Ma preferisco Unicorno Per fare il ponte Con Access Code E quindi Anche lì Access Code L'ho fatto una sola partita Ma ha fatto vincere Forte Quindi non Non lo toglierei Unicorno Perché arriva un 5003 Apple Lusa Che è quella che fate Al 90% Quando ci avete Mascherena Più ABC E fate Apple Lusa Da 4 E poi Goddash Che leva roba Incalabile E nessuno Se l'aspetta Cioè ogni volta Che ho lanciato Goddash Le persone che Cioè tipo Io dicevo Ok prendo questo Per fare link Questo E ne prendevo uno suo E mi fa cosa Quindi molto forte Molto forte Adesso Andiamo alle combo Ok quindi Combo specifiche Se volete giocare Questo fantastico Mazzo Incredibile Allora la combo base Che tu vuoi vedere Di prima mano Andando primo O secondo in ogni caso Perché Due carte E tre carte Qualsiasi in mano Cioè non importa Quale hai Quindi queste due carte Ti fanno fare Praticamente Senza praticamente Full combo Con Considerando Apple Lusa Già 4 interruzioni Una fracca di interruzioni Perché attivando Hangar Ti cerchi il pezzo Da deck Che ho sbagliato Ecco ti cerchi B da deck Che evochi Attivando l'effetto Di hangar Equipaggiando Pilota unione Pilota unione Lo bandisci Per evocare C Sempre da deck Per metterlo Nella zona delle settate Effetto di C E sei la seconda E sei la seconda evocazione E a questo punto Da mano Puoi sincro Evocare Con B Più revolution Synchron Launch and Ferry Effetto di launch and Ferry Guadagni più mille Che Sono riuscito a vincere Una volta I botti Cioè Di life points Quindi ci sta E ti cerchi la terreno Che ti manca Che è sempre questa Perché gioco solo due terreno Attivi Therion A e attiva l'effetto Al cimitero Di B Che ti fa cercare La lettera mancante Attivi la terreno Ti fa cercare Therion E sei in questa situazione Con la mano E sei la terza evocazione Effetto di revolution Synchron Che si rievoca Diventa di livello 1 E fa foolish di 1 Non è importante Quello che manda Perché è sempre random Chiaramente E adesso sei alla quarta evocazione Così sei alla quinta evocazione E sei contro Nibiru Perché fai Alla cristallo A quel punto Non te lo fanno nemmeno Nibiru Perché voglio dire E quello Avendo Therion in mano Prendi evochi Therion Targettando B B lo rievochi Fai link 2 A questo punto conviene fare Mascherena E ci inloccare le lettere Perché fai catena 1 Viverna Catena 2 B O viceversa In base a quello che ti serve Viverna ti fa evocare La lettera Dalla mano L'ultima che ti manca E B ti fa aggiungere Una lettera Da Non importa Ti fa aggiungere Una lettera qualsiasi E chiaramente facendo così Fai le bandisci Per fare ABC E in questo momento Hai un omni negate Un negate di mostro Uno che bandisce E mascherena Per fare Apollusa Perché In quick Di solito Sulla Contro Tipo un mazzo Rog Non mi ricordo Contro chi ero L'avevo fatto Sulla prima normal Che ha fatto Effetto di B Di Bandire C'è in 2 Mascherena C'è in 3 ABC di nuovo Che viene Viene tributato Per rievocare Le tre lettere E fare Apollusa La 4 E questa è la Basic combo Di ABC Ora Qui può fare Un intermezzo musicale Un taglio La seconda combo Che vediamo È con Revolution Synchron E La Enchantress Mi è capitato Più spesso Questo Che tutto il resto E chiaramente Effetto Enchantress Che bandisci Per cercarti Il rito Attivi il rito Ti speciala Il token E ti piazza D'amazzo L'avventura fatidica Normal Revolution Synchron E attivi fatidica E ti aggiungi L'equipaggiamento Effetto di Fate World Adventure Ti cerchi Il griffone Scarti Vabbè lo sapete La combo Scarti L'equipaggiamento Che si triggera E si riequipaggia Il token Lui entra speciale Perché controlliamo token E siamo alla Terza evocazione Facendo così Si fa Synchro Barone Certo Revolution Synchron Sempre quello di specialarsi Mandando uno E così adesso Possiamo soddisfare Finalmente Perché è l'unico modo Per fare Bestia Perché il token Di Di Brave È terra E quindi token Più Revolution Synchron E fai Naturia Bestia E questa è la combo Divertente E simpatica Da giocare Contro Contro Runic Se non vedono Il Kaiju Fa game 2 Di solito Perché sei Abbastanza coperto Se ti fa anche Un Evely Lo neghi di Barone E tutto il resto Appunto Lo neghi di Di Naturia Questa è la seconda combo In realtà Altre combo Differente Cioè Il mazzo Va giocato Un botto Perché ci sono Mille partenze In base alle carte Che hai Cioè Gioco Ferrir Oltre perché È un'interruzione Ma perché È anche un body Che posso Con cui ci posso Far link E quindi Che ne so Se ho C sul tavolo Faccio link Due mascherena Con Ferrir E Avocat special Da mano Una lettera Però Sì È un mazzo Che va giocato Che non fa La solita Non fa solo Una combo Insomma Non è Rubina Effetto Esatto Non è Rubina Effetto Eglen Effetto Empen Cioè Che forte È per carità Però Fa quello È un no Perché gioco Dov'è che è la carta Best Ho persa Eccola Appena Evoca Eglen Giri affascinato E lui passa Anche perché Se fa book Comunque Cioè Non può girarli tutti I suoi piccioni di merda E quindi uno Non può essere tributato E quindi Non può evocare Empen Sì 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 Questo ci voleva Prima di questo Giocavo Barrier Però Barrier è più situazionale Quella è forte Contro tutti Io l'ho sempre detto Io da quando è uscita In double Ho detto Ragazzi Quella carta Va tenuta d'occhio È forte Non era al meta giusto Perché c'era Quando è uscito Fe C'era i Castira Però adesso Ci sta E va bene ragazzi Il video finisce qua Spero come sempre Vi sia piaciuto E fatemi sapere Qua sotto Con un commento Cosa ne pensate La lista Può sempre cambiare Come quella di Fluffal Esatto Esatto Ma come tutte le liste Come tutte le liste Non c'è da dire Un'ultima postilla La lista l'ho cambiata Tipo 200 volte Ogni local Che ho fatto Con sto mazzo L'ho cambiata Però adesso Sono più che soddisfatto Quindi settimana prossima Nuova lista A bc No Se volete giocarla Giocatelo così Non giocate la versione Con sacco di hand trap Anzi Valutate i 6 spot Che ho messo Che sono 2 3 asce 3 in perma Possono essere Quello che volete 3 troll 3 Quello che vi pare Detto questo ragazzi State melisi E noi ci rivediamo Domani Sempre qua Con un nuovo video Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie.